Ha giustificato un milione e mezzo di euro spesi quando la tesoriere del gruppo di forze d'Italia in consiglio regionale ha versato un bonifico di 70 mila euro al consiglio regionale per rimborsare le spese non giustificate dalle funzioni politiche. Inoltre ha chiesto di patteggiare la pena. Si è aperta con questa iniziativa l'udienza del processo che aveva imputato Mariano Conto, ex consigliere regionale azzurro, all'epoca tesoriere del partito accusato di peculato aggravato perché coinvolto nell'inchiesta sui fondi destinati ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna. Conto davanti al collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, composto dal giudice Giovanni Massi, dall'attere Andrea Mereo e Giuseppe Carta, ha presentato pezze giustificative per una cifra superiore al milione e mezzo di euro rispetto al milione e sei contestato dalla pubblica accusa. Inoltre ha versato sul conto dell'Assemblea Sarda la cifra rimanente che non poteva essere giustificata. I legali hanno chiesto di patteggiare una pena di un anno e dieci mesi con pena sospesa. Questa è stata concordata col Pubblico Ministero Marco Cocco che ha anche sottolineato il comportamento processuale positivo dell'imputato. I giudici dovranno pronunciarsi sul patteggiamento. All'esame del collegio giudicante è anche la posizione dell'ex consigliere regionale fedele Sanchu per il quale dovrebbe scattare la prescrizione.